Stai attento a non manchiarti il vestito? C'è una tazza di caffè? Sì, adesso lo vado a prendere. Anche a me un goccetto. Va bene. Pronto? Pronto? Sono io. Luisa, devo parlarti. Su, rispondi. Chi è? Nessuno. Ci deve essere un contatto. Fai prestino, Luisa, che devo andare in ufficio. Graziella, che fai? Rispondo al telefono. Credi che non sia capace? Pronto? Pronto? Con chi parlo? Pronto? Perché non risponde? Con chi parlo? Da un po' a me, va. Pronto? Pronto? Hai parlato? Chi era? Chi lo sa? Non ha risposto nessuno? Ho cercato di sbrigarvi, che io alle quattro al massimo devo essere in ufficio. Un momento, che scotta. Non è vero, non dire sciocchette. È un po' amaro. Golosa. Andiamo, vieni.